Stamattina ho avuto un sacco da studiare e non mi sono accorto che era già ora di pranzo. Per fortuna il mio ristorante preferito ha scelto Pappami. Pappami ti permette di brandizzare la tua app facendo prenotare ai tuoi clienti in modo semplice, pagare direttamente online. Una volta ricevuta la prenotazione avrai la conferma dell'ordine e la tempistica reale di arrivo. Potrai scegliere se aspettare il rider oppure andare a ritirare il pranzo presso il negozio. Posso usare Pappami anche quando mi trovo in giro per la città, ho poco tempo per mangiare e non posso aspettare di fare la fila. Ma non voglio rinunciare a godermi qualcosa di sfizioso, semplice no? Crea la tua app personalizzata e dai ai tuoi clienti quel qualcosa in più con Pappami. Vuoi saperne di più? Visita il sito www.rpdistribuzione.com e contattaci telefonando al 0564 416816 o scrivendo a info-rpdistribuzione.it